E di tre feriti, di cui uno in modo grave, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a San Sostene. In particolare, le vetture coinvolte nel sinistro sono due Fiat Panda, che si sono scontrate per cause in corso di accertamento in via Pacile, nel comune del Catanzarese. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato, che ha provveduto a estrarre da una delle vetture una persona anziana rimasta incastrata. Prestate le prime cure del caso dal personale del 118 a corso sul luogo dell'incidente, l'uomo estratto dalle lamiere è stato trasportato in una piazzola poco distante, dove ad attenderlo vi era l'elì soccorso per il trasferimento presso l'ospedale di Catanzaro. Il personale dei Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale.